Insieme a tutti quanti voi, noi siamo stati a sorrenda a manifestare perché anche lì ci sono forti disagi e forti disservizi nella sanità pubblica. Qui si ripete e peggiora la situazione e non ci vuole l'essere cittadino, essere persone che ad ogni modo ha a che fare con l'ospedale di Vichequenze. Per familiari, per amici, perché purtroppo la salute è un bene pubblico che va salvaguardato e la nostra Costituzione la mette a riparo da tutti. Da chi la vuole invece privatizzare o chi meglio ancora intende trasferire servizi e competenze altrove. Noi non lo dobbiamo permettere, ma noi cittadini, noi associazioni siamo in prima linea perché questa cattiva amministrazione sanitaria, questi disservizi, queste mancanze e chiusure di servizi...